E' un sogno che si è avuto, comunque i sogni attori hanno avuto. E' una strada che si è voluto intraprendere e che ci porterà da qualche parte. E' un modo per far imbattire l'economia del nostro territorio, del Bielese, a cui tutti siamo legati in qualche modo, visto che siamo qua. Economia è una parola che normalmente fa subito pensare alla noia, alla difficoltà, a di cosa sta parlando, a qualcosa per talk show televisivi di cui non sappiamo nulla. In realtà è l'economia di tutti i giorni, le nostre vite di tutti i giorni. E noi vorremmo trovare insieme a voi un modo per rendere più bella, più umana, più semplice, più accessibile. Perché tutto quello che facciamo noi ogni giorno nella nostra vita, in famiglia, nella nostra comunità, nei paesi, in gruppi di persone che ancora non si conoscono con quello di stasera. Pensiamo che la nuova economia che può nascere su questo territorio, che è così piccolo, separato in tante valli, in tante realità di piccolissima taglia, non ha bisogno di molto aiuto per nascere e per venire alla luce. Perché proprio come un bambino ha solo bisogno di un'ostetrica. Se esattamente quello che vuole fare è l'ostetrica, ovvero gli economisti, i nuovi economisti, sono lì per facilitare questo percorso. Se adesso succedendo, come Paolo diceva prima, ci sono decine di realtà che già esistono nel territorio bellese. E hanno bisogno forse di essere riunite, di trovarsi in un luogo comune, di nuovo, per riaccendere quelle relazioni. Infatti abbiamo chiamato il progetto re-economia delle relazioni nel biellese. E quello, pensiamo a ciò che ci manca. Relazioni che possono far comprendere a queste realtà, quelle del pari possono, saranno già qua, quello che manca loro, quello di cui hanno bisogno per far ripartire questa economia. Abbiamo stata una mappatura che non sia solo un'altra persona qui, questa realtà è là, ma che faccia diventare in questa realtà i primi attori del loro cambiamento. E abbiamo visto anche un modo per educare non solo gli attori di questo cambiamento, di questa realtà, ma anche tutti i biellesi. Educare, come per un termine bellissimo, significa condurre fuori quello che già c'è dentro, dentro ognuno di noi. E quindi vorremmo condividere questo sogno, come vi dicevo all'inizio, vorremmo condividere con voi. Voi siete i pionieri di questi incontri che iniziamo questa sera. E speriamo di rivedervi anche i prossimi incontri e di essere ancora di più, ogni volta di più. E proprio in questo tema, della realtà che esistono nei biellesi, che stiamo facendo tantissimo, vorrei introdurre Massimo, della cooperativa Lattro Mercato, uno dei suoi fondatori, che sarà la nostra prima pillola del possibile, che ci mostra esattamente quello che è possibile fare, se si ha un po' di entusiasmo, un po' di volontà. Grazie a tutti. Grazie.